Vuole vedere il culo? Non ti sento? Ma era un po' bello di qui, guarda che culo! Tasta, e io non ce l'ho appargata! Ahah! Era finito! 100 compi... No, perché non hai detto? No, dove sei accorso? Sì, devi togliere su quello che ho detto? Intanto io registro. C'è Antonio dietro? Non si vede più niente. Spengo perché non si vede niente. Non so se si vede, mi sa di no. È tutto pieno di lucciole. Vedono? La caccia di lucciole. Eccola, 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 eccola. Pieno qui di lucciole. L'una? Ecco la luna. Sì, mi sa me lo faccia. E tra la terra e la luna. Farrebbe illuminata la terra. Non lo prendo, non lo so. Guarda, si sta aprendo adesso. Punta la luna. Per me? Per me? No, perché se ne ho esce. Non lo prendo. Non lo prendo. Non lo prendo. Non lo prendo. Grazie.